La vicenda del procedimento sull'affidamento e la gestione del servizio delle menze scolastiche si chiude con l'assoluzione del sindaco Massimo Cialente e della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. La Corte dei Conti infatti li ha assolti, assieme all'intera giunta in carica nel 2010, dall'accusa di danno erariale. L'inchiesta era partita da un esposto presentato nel 2012 dall'avvocato Fausto Corti. Sotto la lente di ingrandimento, una delibera del 2010 con la quale il Comune aveva consentito la ditta vivenda S.P.A. di aumentare ogni pasto di circa un euro più IVA, un aumento che secondo l'accusa aveva prodotto un danno erariale di 454 mila euro. La vivenda giustificò tale aumento dicendo che si era passati dal servizio di monorazione a quello di scodellamento dei pasti. Nello stesso procedimento erano chiamati a rispondere di danno erariale, oltre al sindaco e alla Pezzopane, anche gli assessori Giampaolo Arduini, Marco Fanfani, Armando Lisi, Giuliano Lalli e Roberto Riga. L'equivoco di fondo in cui la procura è un corsa si legge nelle motivazioni che avrebbe legittimato la richiesta risarcitoria e che nel contratto originario fosse compresa anche l'attività di scodellamento o servizio agli alunni e al personale fruitore dei pasti, mentre risulta agli atti, come nessuna attività del genere, rientrasse nelle mansioni della società aggiudicataria che a riguardo non percepiva alcun compenso. La procura non ha dimostrato quindi la presenza sul territorio a parità di condizioni di prezzi inferiori per lo svolgimento del servizio ai tavoli, che avrebbe provato il danno derivante dalla differenza tra il prezzo pagato alla ditta aggiudicatrice e quello prospettato da altri fornitori. Ma le successive aggiudicazioni, si legge sempre nelle motivazioni, hanno dimostrato l'esatto contrario, ovvero l'indisponibilità di altre ditte allo svolgimento del servizio. L'avvocato Fausto Corti, nello stesso procedimento, rappresentava una ditta esclusa dall'appalto.